Musica Presidente qualificazione alla semifinale raggiunta però quanta sofferenza? Beh diciamo che ogni partita è una sofferenza, diciamo comunque che la vittoria è meritata soprattutto per le occasioni create, purtroppo manchiamo nella finalizzazione ma oggi vediamo una squadra che le azioni le crea e manca soltanto la parte conclusiva, prima o poi arriverà anche questa. Senti un peccato anche per tutti questi infortuni che stanno un pochino martoriando la tua squadra. Beh sai arriviamo da 4-5 partite consecutive dove abbiamo chiesto il massimo sforzo a tutti i giocatori, forse è anche normale che qualche acciacco possa capitare e cerchiamo di recuperarli il prima possibile. Senti domenica ti aspetti tanta gente allo stadio, è un big match. Mi auguro che la città di Treviso risponda alla nostra richiesta di sostenere la squadra per tentare il sorpasso e di arrivare finalmente nella posizione che ci compete e auspichiamo che arrivi anche la vittoria per poter effettuare questo sorpasso. Stasera la gente è a corsa numerosa a seguire la squadra però manca il tennis di sera insomma, come sta andando con il comune? Ormai siamo vicini, abbiamo chiesto un incontro per il 17 novembre dove noi presenteremo le nostre ultime carte, dove finalizzeremo il nostro progetto per una ristrutturazione, quindi la nostra richiesta della concessione d'uso dello stadio. Adesso tocca al comune dopo il 17 accelerare i tempi affinché ci possa consegnare finalmente le chiavi dello stadio. Quindi per il 17 di febbraio quando ci sarà la semifinale si potrà eventualmente giocare al tennis notturno? Se le premesse sono quelle che ci hanno presentato l'amministrazione comunale direi assolutamente di sì. Perfetto, grazie Press. Grazie a tutti.